E' stato ufficializzato ieri nell'aula consigliare di Palazzo de Fusco a Pompei il logo per la candidatura della città vesuviana, capitale italiana della cultura, per l'anno 2027. La conferenza stampa si è tenuta alla presenza del sindaco Carmine Losappio che ha introdotto e moderato i singoli interventi del vice sindaco ed assessore alla cultura, Andreina Esposito e di Leonardo Valle, presidente Cetegus e partner del comune di Pompei. Pompei è una candidatura importante, di prestigio. Nasce dal territorio, nasce per dare servizi migliori ai cittadini e alle cittadine di Pompei e per migliorare la loro qualità della vita e anche la qualità del turismo e di questo nuovo frontiere del turismo che è sempre più di qualità e sempre meno di quantità in modo tale che questo territorio possa ospitare in modo sostenibile questo turismo e creare opportunità di lavoro inclusivo per soprattutto i nostri giovani. Una candidatura importante è quella della città degli scavi a supporto della quale l'amministrazione comunale ha incassato il sostegno di oltre 80 comuni dell'intera regione campagna, nonché di enti ed espressioni del mondo e dell'associazionismo che a vario titolo hanno di fatto abbattuto ogni confine territoriale e culturale, come evidenziato con soddisfazione dal primo cittadino. Togliere i confini significa mettere in moto un nuovo meccanismo, io dico tracciare un percorso per il turismo nelle nostre, in questa nostra area. Io parlo delle città che stanno in campagna e forse dobbiamo anche andare oltre il confine della stessa campagna, andare anche verso la Basilicata, Calabria, Puglia. Abbiamo tracciato anche un percorso sul quale hanno già aderito più di 80 comuni, approvando con proprie derivate uno schema di protocollo di intesa che non solo gli enti e quindi i comuni, ma la confindustria di Salerno, di Napoli, la sovrintendenza, il santuario e tanti altri enti che hanno sottoscritto il sostegno alla nostra città. Naturalmente questo mi fa onore, ma deve anche essere poi tradotto in fatti concreti. Pompei Continuum, lo slogan che accompagna la rifinitura dell'artistico simbolo. Sintesi equilibrata non solo degli aspetti legati alle vicende e alla storia del territorio, ma anche proiezione dei nuovi profili indicati dalla città di Pompei. Contiene il mare, quindi questo nuovo protocollo di intesa fantastico, Marina di Stabia Pompei, che unisce tutta il golfo di Napoli, la costiera Amalfitana e Sorrentina, questa candidatura di eccezionale rilevanza. Poi abbiamo il sole, il sole degli oltre 80 comuni che hanno supportato la candidatura. Abbiamo queste torre greche e romane che rappresentano proprio il continuum di questa Pompei che nasce nei millenni, diventa mito e che adesso si propone come capitale italiana della cultura del 2027. Poi c'è questa fiamma dell'eruzione del Vesuvio, questo fuoco che ha fatto diventare mito questo territorio.